SONO UN UNICORNO! Guardate, c'è un unicorno! Firma con me e il tuo sogno diventerà realtà! È quello che aspettavo da una vita, sono finalmente speciale! Veramente eri speciale anche prima, Thelma, e appena all'inizio! Darius, Ben, che cosa ci fai qui? Tu però cerca di non agitarti. Fidati di me, qualcuno ce l'ha con noi, è ovvio. Ma perché? Chi arriverebbe a tanto? Non lo so con sicurezza, ma ho delle valide teorie. Prova a dargli un'occhiata, sono qui dietro. Te l'avevo detto che era solo un calcetto. Papino, hai caduto da un dirup e boom, boom, boom! Falso allarme, era solo un calcetto. Sai a cosa darei un calcio? È il terzo falso allarme questa settimana! Forza, lo spettacolo è finito, circolare, circolare! Ti devo fermare qui, ho deciso di lasciarti. Cosa? Ma ho pianificato tutto il nostro futuro! Il nostro matrimonio, i nostri figli! Mammina! Il nostro funerale! Come andiamo? Sei impazzito! Abbiamo avuto un solo appuntamento, è durato 14 minuti! Sì, ma a me sembravano 20! Non voglio ispezioni con sonde! Tu ti preoccupi? Io non ho i pantaloni! Che cos'è? Vengono a prendermi! Chi viene a prenderti? Che c'entra con me? Non ho tempo di spiegare, ma tu devi aiutarmi! No, non devo! Mi serve il tuo aiuto. Ti prego, questo è un edificio di morte. D'accordo, vieni con me. A presto!